Musica 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 E' un po' che è stato ridicato a tutto quanto, però anche se sono quello che sono, non so perché, anche io, questo lo capisco da solo, ma lo so perché sono in questa scuola. Il lavoro che faccio di una ragione è comparato molto attraverso questa scuola. Mia moglie purtroppo lo conosciò da un lato, purtroppo per lei, un lato che si riportava a questa scuola, gli amici più cari, il sardegno che sta a 10.000 km, che vanno sempre più di mia sorella che sta a 10 km, Stefano, Antonio, Luca, Pasquale, tutti gli altri, qualcuno da me, se non faccio tutti i più dovuti, li ho provati in questa scuola. E che devo dire, quando i professori hanno fatto cose grandissime, cose che tra 14 anni non avrebbero mai immaginato nel 18. Devo dire una cosa che per me è una fase mia, perché è una cosa troppo intelligente da una parte della mia, noi siamo stati lavoranti a dei grandi seguiti sulle spalle dei giganti. I giganti sono stati voi professori a stare da scuola, a stare da un po' di me. Io spero che i miei figli, i nostri figli, possano avere una propietà di questo, e una cosa che ti sono stati lavoranti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti